Reti Industria è la società di Confindustria che gestisce le convenzioni nazionali. Una rete di oltre 30 partner che possono supportare la tua azienda a fare business, con centinaia di offerte dedicate ed in esclusiva per gli associati sull'acquisto dei principali prodotti e servizi legati all'attività imprenditoriale. Nel 2014 il risparmio medio è stato del 5%. Vuoi scoprire tutti i vantaggi e le opportunità? Se sei associato visita il sito www.confindustria.it, entra nella sezione convenzioni e registra la tua azienda. Basta inserire la partita IVA. Se non sei associato puoi visitare il sito www.confindustria.it e contattare la tua associazione di riferimento. Reti Industria e il tuo business cresce prima!